Buonasera, ben ritrovati a Teletutto racconta, saluto, ho il piacere di avere in studio qui con me il dottor Paolo Terragnoli, direttore del Dipartimento di Emergenza della Fondazione Poliambulanza di Brescia. Buonasera, innanzitutto grazie mille per essere qui perché sono giorni molto difficili per voi soprattutto in pronto soccorso, abbiamo deciso di aprire questa finestra proprio per raccontare il vostro lavoro, non che non si sappia però forse ancora di più in questo momento di emergenza molte persone hanno capito il vostro ruolo e il vostro grande cuore. State lavorando tantissime ore senza sosta, come sta andando in pronto soccorso? Sicuramente è un momento difficile, è un momento molto difficile, abbiamo la fortuna che si è venuto a creare un paradosso, sono crollati gli accessi di pazienti che presentavano sintomatologie di vario tipo ma non di tipo respiratorio. Quindi questi pazienti ormai sono diventati per noi una rarità. Diciamo che la stragrande maggioranza dei pazienti che si stanno rivolgendo in questo momento a tutti i pronto soccorsi lombardi sono pazienti che purtroppo hanno problemi legati alla sfera respiratoria. Dottor Terragnoli, quando ci siamo sentiti lei mi ha detto che è quasi inusuale vedere il pronto soccorso vuoto, quindi questo insomma significherà qualcosa? Assolutamente sì, io spero presto, chiaramente non so dire quando ma spero presto quando usciremo da questa crisi tutti insieme in modo assolutamente onesto dovremo fare una riflessione su ciò che è successo, cioè sul crollo degli accessi in pronto soccorso perché è evidente che negli anni scorsi c'è stato un abuso di utilizzo di questo mezzo di soccorso alla salute dei pazienti e quindi bisognerà insieme con molta onestà rivalutare quelli che sono i criteri per cui la popolazione si debba rivolgere al pronto soccorso. Noi parlavamo poco fa prima di entrare in diretta e lei mi ha detto bisogna avere, adottare un comportamento idoneo e giusto in questo momento affinché l'allarme del coronavirus possa al più presto passare. Che cosa vogliamo spiegare a casa? Che cosa vuol dire questo messaggio? Assolutamente sì, innanzitutto ognuno deve fare la sua parte anche nelle piccole cose e quindi perdere l'abitudine italiana diciamo di criticare e voler comandare. Forse è venuto il momento che tutti insieme, molto onestamente, rispondiamo in modo corretto a ciò che ci viene detto e seguiamo le indicazioni che ci vengono date. Evitiamo laddove è possibile i contatti sociali in questo momento, cerchiamo di mantenere comportamenti che siano congrui alla situazione, la distanza, evitiamo le classiche effusioni mediterranee, baci a bracci e anche le strette di mano. Laviamoci molto spesso le mani e disinfettiamole e accettiamo senza critiche le scelte che vengono fatte, che sono scelte dettate dal tentativo di proteggere la popolazione, non di creare il danno. La chiusura delle scuole, se mai dovessero venire chiusure ulteriori, sono tutte indirizzate a proteggere la popolazione. Purtroppo un danno collaterale ci sarà sicuramente, già c'è ed è un danno economico, saremo forse tutti un po' più poveri, ma io spero molto più sani. Quindi lei ha detto, meglio essere povero e sano che un ricco morto. Assolutamente, sì. Che ha avuto da dire però effettivamente, però quel messaggio che un po' vuol passare. Sì, nel modo più assoluto. Forse all'inizio non si era capito esattamente cosa stesse accadendo, c'era l'allarmismo da una parte e poi delle restrizioni, messaggi però non vi dovete preoccupare, tutto sotto controllo. Man mano che passano i giorni tutto diventa, anche per i cittadini, tutto diventa un po' più chiaro. Forse perché la parola giustamente viene data anche a un parere scientifico. Assolutamente sì. Io penso che senza voler esprimere un giudizio di merito, ma assolutamente le decisioni che vengono prese adesso a livello governativo centrale, a livello regionale, sono tutte dettate da interlocuzioni continue con il mondo scientifico e quindi bisogna avere fiducia nelle decisioni che vengono prese. E soprattutto, sì, è vero, in un primo periodo forse c'è stato un minimo di confusione, ma purtroppo sono quelle situazioni che si creano nel momento in cui ti trovi davanti a qualcosa di sconosciuto. Non c'era mai successo prima, o se c'era successo con la spagnola, con l'epidemia a Hong Kong o in America, con la grande epidemia di poliomelite, ce l'eravamo dimenticati. E quindi abbiamo avuto lo shock iniziale di dover affrontare una realtà che nessuno di noi aveva vissuto e la reazione a volte all'inizio è quella di negare l'evidenza. L'evidenza adesso è innegabile e quindi tutti insieme dobbiamo lavorare per trovare una soluzione al problema. Anche perché l'evidenza fa paura, no? La paura genera paura. Ma io sono convinto che in realtà la paura è generata dalle cose che non si conoscono. Adesso noi stiamo conoscendo sempre di più e sempre meglio il nemico che abbiamo di fronte e quindi anche la paura deve calare. La paura deve essere sostituita dalla consapevolezza, la consapevolezza del momento e quindi la necessità di operare tutti insieme per uscire da questa crisi. Direttore Terragnoli, vogliamo ricordare a casa, anche se l'abbiamo detto un'infinità di volte, lo leggiamo sui giornali, voi ci date tantissimi messaggi, cosa bisogna fare? Se una persona dovesse avvertire dei campanelli d'allarme, ricordiamo anche quali potrebbero essere per poi recarsi al pronto soccorso. Allora, i campanelli d'allarme sono i classici delle sindrome influenzali, astenia, tosse, febbre. Se si dovessero avere sintomi di questo genere non bisogna allarmarsi, non bisogna aver paura. Il primo contatto è, ed è sempre validissimo come sempre è stato, il medico di base. Si possono eventualmente contattare i numeri che sono stati messi a disposizione della popolazione. Il recarsi al pronto soccorso in prima battuta può provocare un danno a se stessi e all'organizzazione. A se stessi perché in linea del tutto teorica, se non ci si è positivizzati, si corre il rischio di entrare in un ambiente che sicuramente ha una percentuale di positivizzazione maggiore che non l'ambiente esterno. E si va a ingolfare un sistema che in questo momento sta raggiungendo il suo limite massimo di tolleranza. Per cui, buon senso, non allarmarsi, al tempo stesso non sottovalutare se da più giorni si ha la febbre, se si comincia ad avere qualche difficoltà respiratoria. Allora forse è il momento di rivolgersi a un dipartimento d'emergenza. Come è cambiato il pronto soccorso da dieci giorni a questa parte? Io le parlo della nostra realtà fin dal primo momento e di questo io ringrazio innanzitutto tutti i miei collaboratori e anche l'apparato gestionale di Fondazione Poliambulanza. Fin dal primo minuto noi siamo stati in grado di creare dei percorsi separati per i pazienti a rischio e per i pazienti non a rischio. Questo ha creato due mondi paralleli, totalmente diversi. Il mondo dei pazienti a rischio, dove girano i ghostbusters con tutte le belle tute addosso e le mascherine, dove sicuramente si è continuamente sotto pressione perché il numero dei pazienti è estremamente elevato. E il mondo dei pazienti non a rischio, dove ormai ci sono pochissimi pazienti, lo spazio sembra addirittura eccessivo rispetto al numero di pazienti che arrivano e dove si trova il tempo negli ambulatori rimasti attivi di fare anche quattro chiacchiere con i pazienti che arrivano, cosa che prima non ci potevamo mai permettere. In questo periodo si sente spesso, ho incontrato una persona che poi è risultata positiva, ma cosa devo fare, come devo comportarmi, effettivamente qual è il filo che si supera per poi rischiare di essere positivi? Allora, incontrare una persona positiva non vuole assolutamente dire essersi contagiati, perché possa avvenire il contatto, bisogna che ci sia un contatto stretto e quindi diciamo al di sotto del metro, tutto sommato abbastanza prolungato, perché il virus viene trasmesso molto spesso, anzi quasi sempre, dalle goccioline che vengono emesse durante uno starnuto, un colpo di tosse o cose di questo genere. Quindi, se si è avuto un contatto con una persona che poi è risultata positiva, dobbiamo chiaramente mantenere la calma, informarne il proprio medico di base, sarà poi cura del medico di base, stabilire se il paziente è un paziente a rischio e quindi da sottoporre a tampone oppure no, secondo le indicazioni che vengono fornite da Regione Lombardia. Le indicazioni che noi stiamo seguendo in modo assolutamente pedisseco, è un termine desueto, ma da bene l'idea, sono quelle di fare il tampone ai pazienti che devono essere ricoverati. Questa è l'indicazione che noi abbiamo in questo momento e questa è l'indicazione che stiamo seguendo. Quindi, il semplice contatto non indica assolutamente la infezione certa. Fortunatamente non siamo ai tempi della peste manzoniana. Fortunatamente. Non dobbiamo sottovalutare la cosa, ma manteniamo il buon senso. E allora una domanda sulla sua carriera, adesso lei mi guarda così, ma è una mia curiosità. Aveva mai vissuto un periodo così critico, con i suoi occhi e anche si è affrontato? Io nasco come anestesista e rianimatore ancora con il professor Arosio, grande della medicina, grande organizzatore. E ho lavorato per lunghi anni all'ospedale civile di Brescia in prima rianimazione per essere poi chiamato a aprire e dirigere il Dipartimento d'Emergenza del pronto soccorso di poliambulanza di Brescia. Diciamo che lo stress è connaturato nel nostro lavoro. Ci siamo abituati, così come tutti i miei collaboratori e i miei colleghi. Sicuramente questa è una fase di altissimo stress, perché la concentrazione temporale di un elevatissimo numero di casi fa sì che possa diventare in certi momenti un po' più difficile essere così lucidi e mantenere elevate performance. È uno sforzo che si fa quotidianamente e che fortunatamente fino ad oggi siamo riusciti a ottemperare a questo principio della lucidità. È un qualcosa che io penso continuerà ad essere perché il mondo del pronto soccorso, che in Italia spesso è stato vituperato, è fatto di persone che hanno come primo obiettivo il servizio. Noi siamo al servizio della popolazione e quindi essere abituati ad essere al servizio, a servire, fa sì che spesso volentieri si faccia poca filosofia, ma tanta pratica. Tanta pratica e questa sera sicuramente credo che il messaggio sia stato chiaro, voi siete al servizio della cittadinanza, ma anche la cittadinanza deve rendere un qualcosa e questo lo può fare grazie a dei comportamenti virtuosi. È assolutamente un aiuto reciproco, è una unione di forze e io sono convinto che questa unione di forze ci sia e ci porterà alla vittoria. Grazie mille al direttore Paolo Teragnoli, grazie per essere stato qui. Come sempre la linea torna da Andrea Lombardi, te le tutto racconta salute e torna invece lunedì. Arrivederci a tutti.